un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo dal giardino dei frati che si affaccia proprio sul complesso religioso di san pio sulla chiesa grande di san pietà del cina consacrata nel 2004 oggi qui per raccontarvi anche quello che accadeva quotidianamente qui a san giovanni rotondo perché per i figli spirituali di padre pio per i tanti devoti tanti pellegrini non era rose e fiori cioè non non tutti riuscivano ad ottenere quello che chiedevano a strappare grazie a padre pio una grazia alla madonna al signore a dio infatti c'erano diverse proteste nonostante la mia preghiera assidua espressa con molta fede padre pio non mi ha ottenuto la grazia che avevo chiesto sono le parole di una figlia spirituale infatti a fra daniele natale oggi servo di dio fu riferito un caso particolare in cui c'era stata una vera e propria lamentela nei confronti di padre pio e allora fra daniele andò da padre pio e glielo disse il santo indicando con il dito verso il cielo disse caro fra daniele dipende tutto da lui non da me la risposta di padre pio apre a questa considerazione che non sempre il signore ce la può concedere se non rientra nei suoi disegni di provvidenza e allora ad esempio più volte noi ci siamo ritrovati a leggere l'epistolario di padre pio dove lui raccontava quello che gli accadeva a pietrelcina e quindi lui si trovava in un contesto familiare qualcosa di eccezionale perché lui doveva vivere in fraternità in convento con tutti i suoi frati ma quando era in convento purtroppo stava male e ritornava di nuovo a casa e questo lo ha lo ha fatto per diversi anni lui eccezionalmente è stato in famiglia ha vissuto in famiglia nella sua pietrelcina da roma gli fu anche consigliato di diventare prete la semplice ipotesi di vedersi tagliato fuori dall'ordine di san francesco per padre pio era la morte allora lui si rivolse proprio alla madonna per chiedere di poter vivere secondo la regola in comunità con i suoi confratelli ma la beata vergine che aveva sempre riservato le cure più delicate nei confronti di questo figlio prediletto di fronte alle sue suppliche in segno di dissenso racconta proprio lo stesso padre pio che addirittura abbassava lo sguardo non gli rispondeva non lo guardava ecco evidentemente anche padre pio ha fatto questa esperienza in quanto quanto lui chiedeva non rientrava nei piani di dio nei piani conosciuti da dio perché tutto come lui ha ribadito fra daniele dipendeva da lui ciao 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 Grazie a tutti.